Va tutto bene? Sì, sì, va tutto bene. Benissimo. Ultime notizie dal TG.com. Il governo transitorio sarà sovrano, ma le truppe straniere non se ne andranno dall'Iraq almeno per un anno. Sono questi due dei punti cardini della nuova bozza di risoluzione presentata da Stati Uniti e Gran Bretagna al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Intanto è atterrata a Ciampino l'aereo con a bordo ciò che resta del cadavere di Fabrizio Quattrocchi, ancora da decidere la forma delle eseque. E' Alessandro Petacchi, il vincitore della quindicesima tappa dell'87esimo Giro d'Italia, la più lunga di tutta la Corsa Rosa. Con questo successo lo sprint a Spezzino raggiunge quota 8 vittorie, record assoluto di affermazioni in uno stesso Giro dal dopoguerra. Per tutte le altre notizie vi diamo appuntamento oltre che su www.tgcom.it e anche su Mediavideo il teletext di Mediaset curato dalla redazione del TG.com. Adesso vi lasciamo al meteo e alla seconda parte del film. Mimicone 5 Stelle San Montana Molto più di un gelato. Maschiaccio, fin da piccola. Che lavoro potrebbe fare? FBI non si mischi. Se il concorso di Miss America è a rischio attentati. Quindi vorremmo infiltrare uno dei nostri agenti. Non è certo lei la più adatta. O se nell'incedere l'ho vista solo in Jurassic Park. Ma volente o nolente... Si dovrà adattare. Ma che stai facendo? Impedisce che il costume vada su. Sandra Bullock, Michael Caine, Candice Bergen. Miss Detective. Prima TV Canale 5, mercoledì alle 21. Stasera la luna Ci voglio, sta vacanza ci voleva proprio. Stasera la luna Quella non sa nuotare, eh? Eh, io ho finito il credito. Guarda qua. Marinaio, alla ricarica. Solo Tim ti offre SOS ricarica. Se hai finito il credito, chiama il 4916 e ricevi subito 2 euro di ricarica. Ehi, guaggiù, qualcuno ci ama. Ehi, guaggiù, qualcuno ci ama. Campari Mix, easy to drink. Ford Fiesta. Scopri la nuova generazione 2004. Fiesta è l'unica con 16 valvole, doppier bag ABS climatizzatore a 9.750 euro. Prezzo bloccato fino al 31 maggio. The New Fragrance Boss in Motion Blue Edition Did you know that if you subscribe now the dish is gratis? Affrettati! Se ti abboni a Sky entro il 30 giugno, la parabola e l'installazione standard sono gratis, con in più un mese di abbonamento gratuito. Pronto Sky? Più facile di così. Brrrr, brancamenta. Vino, cioccolato, grasso, erba, uovo. Erba? Nuovo o mino bianco 100. Nessuno toglie più macchie. Derpita, 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 boom. Tornano gli esclusivi concerti Coca-Cola Live at MTV solo con il concorso Coca-Cola. La vostra missione, eliminare le imperfezioni. Per la mia pelle, io ho l'arma infallibile. Pure Zone, il primo programma purezza continua di L'Oreal Paris. Uno, purifica in profondità. Due, restringe i pori. Tre, controlla la lucidità. La lucidità, eliminata. I pori ostruiti, distrutti. Le imperfezioni, cancellate visibilmente. La mia pelle è pura e così resta. Missione compiuta. Pure Zone, programma purezza continua di L'Oreal Paris. Voi valete. Da 80 anni facciamo una cosa sola. Il clima migliore per la vita. Daikin, i climatizzatori fissi. Borotalco bagno schiuma. Inconfondibile profumo. Inconfondibile cremosità. Borotalco bagno schiuma. Altola allo stress. Sempre più italiani mangiano fuori casa. Per questo la ricerca Mentadent ha creato Mentadent Integral, che grazie al mix esclusivo dei suoi ingredienti antibatterici ti dà una protezione superiore fino a 18 ore. Nuovo Mentadent Integral. Protezione completa. Da mattina a sera. Nuovo Chrysler Voyager 2.8 CRD con cambio automatico. In tutte le concessionarie Chrysler Jeep. Quando il peso di dieci uomini è sulle tue spalle. Quando realizzi che tutti i tuoi sogni non sono più sogni. Tira fuori quello che hai dentro. Prigionieri dei prezzi? GS libera la spesa e vi offre la qualità dei prodotti a marchio GS con prezzi ribassati fino al 30% e bloccati per tutto il 2004. I prezzi dormono. Fate con comodo. GS arresta i prezzi. Libera la spesa. Questo programma è offerto da fanghi d'alga guam. Benvenuti a Meteo 5. Le previsioni per domani. Bel tempo e temperature gradevoli per tutta la settimana sull'Italia. A parte qualche rovescio sulla Sicilia fino a giovedì per l'insistenza di una perturbazione africana. e a parte isolati temporali pomeridiani sulle Alpi fra mercoledì e domenica. Nella notte insistono piogge qua e là su Sicilia e sud della Sardegna. Al mattino sereno ovunque tranne le isole maggiori e la Calabria. Qualche rovescio sull'ovest e sul nord della Sicilia. Al pomeriggio rovesci sparsi in Sicilia. Sporadici rovesci anche su Alpi marittime. Ancora un po' ventoso al sud. Nella sera ancora qualche rovescio nel sud della Sicilia. Bel tempo sul resto dell'Italia. Previsioni e grafica Epson. Al başka un po' ventoso. Come lo io gli abbiamo una altitudine. Coministica di Wil Wheatot U passato uno